Ciao a tutti, la finta perfezione nei social rivela brutte sorprese nella vita reale. Cosa significa questo? Prima di affrontare il tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto i link in descrizione. Allora, nei social, soprattutto Instagram ultimamente ma anche Facebook, dà la possibilità ovviamente come tutti noi sappiamo di taroccare le fotografie, taroccare i filmati, insomma mettere tutti questi filtri per cui anche diciamo le vecchie carampane sembrano giovani donne belle, piacenti, ma anche i vecchi carampani sembrano uomini baldanzosi, insomma. Cioè, il ritocco oramai è diventato dilagante in tutti i social e tu vedi foto che poi dopo, se per caso c'è un incontro reale, sembra una persona completamente diversa, ma la cosa interessante è che anche senza incontrare persone nuove tu lo puoi vedere con persone che conosci, cioè tu conosci una persona dal vivo magari e vai a vedere le foto che posta su Facebook piuttosto che su Instagram e ti sembrano altre. Tu dici, ma è la persona che conosco io, questa, o è un'altra persona? Perché, come dire, ti stravolgono completamente, genera una finta perfezione. E questa finta perfezione intanto genera modelli distorti, no, da parte delle persone che guardano perché veramente rivela brutte sorprese, anche perché crea dei modelli sempre di perfezione, un po', come dire, il creare un modello di perfezione, no? E questo modello di perfezione anche con te stesso, quando ti guardi non ti riconosci in questa foto, perché in realtà non sei tu, sei tutti questi filtri, tutte queste cose ti fanno sembrare un'altra persona, quindi in realtà ti fa prendere le distanze, diciamo, da ciò che sei, dalla realtà. È come dire, è come se tu hai una panda vecchia scassata e nella foto risulta una Ferrari, una Mercedes nuova di pacca. Ho capito, però nel momento in cui vedi la foto della Mercedes, pensi alla tua panda vecchia scassata, perché quella è la realtà. Nel momento in cui tu vedi la foto, diciamo, lì, che hai postato tutta roccata di te stesso, pensa come sei in realtà, tutto un altro film, un'altra storia. Diciamo che noi non possiamo mai vedere il nostro viso, no? Anche perché se lo vediamo in riflesso nello specchio appare sempre trasformato. O faranno degli specchi che ti trasformano e quindi tu credi di essere veramente come sei nella foto. Questa è ancora la cosa più delirante che può venire fuori. Però, comunque c'è tutto questo farlocco, diciamo, dei social che poi spesso rivela brutte sorprese. Quindi se postate le foto, postatele brutte come siete o brutti come siete e via. Tanto quella è la realtà, insomma. Meglio, come dire, vedere le cose nel modo più corretto possibile che deformarlo, insomma. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termaschi, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!